Una guardia svizzera è una persona che veramente cerca di seguire il Signore Gesù e che ama in modo particolare la Chiesa. È un cristiano con una fede genuina. Lo ha ricordato Papa Francesco ricevendo in udienza le guardie svizzere insieme con alcuni familiari. Il pontefice ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto, un servizio non di rado impegnativo, e ha fatto memoria di quanti hanno perso la vita durante il sacco di Roma per proteggere il pontefice rispondendo generosamente alla chiamata di Cristo, l'unico vero re. E così, quando incontrate la gente, i pellegrini, voi trasmettete con la vostra gentilezza e competenza questo amore più grande che viene dall'amicizia con Cristo. In effetti, voi, guardie svizzere, siete un manifesto della Santa Sere. Vi ringrazio e vi incoraggio per questo. Grazie. 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 Grazie.